Buonasera e bentrovati al telegiornale di Media24. Con oggi riprendiamo la nostra consueta attività e quindi anche il nostro telegiornale tornerà ad essere un appuntamento fisso della nostra settimana. Il nostro punto. L'estate sta finendo e noi da oggi torniamo alla nostra consueta programmazione. Ci attendono mesi impegnativi da qui alla fine dell'anno e noi vogliamo, come si suol dire, essere sul pezzo per raccontare e commentare la cronaca dei giorni che ci attendono. C'è una competizione elettorale che sta tenendo col fiato sospeso mezzo mondo, c'è un'inflazione galloppante, il costo del gas è salito alle stelle, una guerra che si combatte attorno alla più grande centrale nucleare d'Europa con rischi oggettivi per l'intero vecchio continente e c'è un'isoletta, neanche tanto piccola, nel mar della Cina, Taiwan, che potrebbe diventare il teatro di un nuovo conflitto planetario. Per non parlare del clima ormai fuori controllo e degli incendi o i devastanti temporali che hanno flagellato il nostro paese e tanti altri luoghi del mondo. E non dimentichiamo i problemi di casa nostra, che sono tanti e che è difficile elencarli, tanto sono numerosi e di non facile soluzione. È davvero tutto così negativo? No, sicuramente. Quest'anno, uno dei periodi più caldi della storia, ha visto un rilancio poderoso del turismo. C'è tanta voglia di ricominciare, di riappropriarsi di un po' di normalità e di quieto vivere. Certo, la cronaca ci regala ogni giorno notizie che ci incubiscono e ci rattristano. La morte di quel ragazzo di Porcia per opera di una militare americana non depone a favore di quella quotidianità serena a cui facevo riferimento. E tuttavia, proprio nel momento in cui sembra che la nostra vita sia destinata a una prospettiva difficile e complicata, è lì che dobbiamo essere capaci, e lo abbiamo dimostrato tante volte nel passato, di reagire e di rilanciare. Ne saremo capaci anche questa volta? Lo scopriremo vivendo come recita quel motto. E noi saremo qui a raccontarvelo. Mercoledì 31 agosto cesserà l'attività di medico di medicina generale, il dottor Giovanni Capovilla, che svolge attività nel comune di Annone Veneto. E pochi giorni dopo, lunedì 5 settembre, cesserà l'attività anche il dottor Carmelo Sciacca, che svolge attività nel comune di Ceggia. L'unità sanitaria locale numero 4 del Veneto orientale ha reclutato e nominato i due sostituti, rispettivamente la dottoressa Maddalena Monica Artico di Annone Veneto e la dottoressa Ida Esposito di Ceggia. Gli assistiti dai due medici verranno trasferiti direttamente ai nuovi nominati e quindi non dovranno recarsi negli uffici di anagrafe sanitaria per comunicare il cambio. Inoltre, in questi giorni, i pazienti interessati all'avvicendamento dei due medici riceveranno una lettera che riporta la novità, gli orari di apertura degli ambulatori e i recapiti telefonici dei nuovi medici. E alla Darsena Marina Resort Michelangelo Yachting Club di Jesolo è stato presentato il progetto Turismo Sociale Inclusivo in Veneto. Il tutto alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità e Servizi Sociali, della Direzione Generale dell'Azienda 4 del Veneto Orientale, degli imprenditori del turismo e soprattutto di numerosi ragazzi che partecipano al progetto accompagnati dai datori di lavoro che hanno aderito all'iniziativa. L'assessore regionale ha parlato di nuove e buone collaborazioni nate tra pubblico e privato. Il progetto Turismo Sociale Inclusivo nel Veneto, per quanto riguarda Jesolo, ha portato anche a nuovi inserimenti lavorativi presentati insieme ai partner Aquarium Reptilarium che ha avviato un tiricigno lavorativo, l'hotel Gaglia con tre tirocinanti, spiaggia di Nemo con un tirocinante, il villaggio al mare Marzotto con dieci tirocinanti. A tutti i ragazzi è stato consegnato lo zainetto ufficiale del progetto. E l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale a Pordenone su un caso di contagio del West Nile Virus a Pordenone, il cui vettore è la zanzara, segnala la necessità di adottare le misure di prevenzione e di protezione individuale e mettere in pratica le attività di rimozione dei focolai larvali e delle attività larvicide nei focolai non rimovibili nelle aree private. Già in primavera il Sindaco aveva firmato l'ordinanza tuttora vigente sulle misure di prevenzione e contenimento dell'insetto che tutti gli utenti sono tenuti ad osservare. E non è mai troppo tardi per poter uscire dalle dipendenze. Questo è il messaggio di speranza che ha voluto portare all'evento Dipende da me che si è tenuto ieri, domenica 28 agosto, in piazza Falcone e Borsellino a Monfalcone. Lo scopo della serata era in primis di parlare di dipendenze a chi ne soffre e a coloro che ne sono vicini, eliminare lo stigma delle dipendenze e in particolare sulla tossicodipendenza, cosa che si può fare soltanto dando voce all'argomento senza vergogna, rendendosi conto che è una malattia, non un vizio e che potrebbe capitare a chiunque. E infine far avvicinare coloro che ancora non sanno bene cosa comporti convivere con questo problema e come poter stare vicino a chi ne soffre. E passiamo ad altro argomento. È stato annullato l'intervento di disinfestazione contro la zanzara portatrice del virus di usuto. in programma Tolmezzo e Verzegnis. In seguito ad un confronto tenutosi tra i sindaci dei due comuni e il servizio di prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria del Friuli Venezia Giulia, sono emersi diversi elementi che hanno portato alla decisione di sospendere l'intervento. Nel caso di Verzegnis il gran numero di apiari presenti nel territorio del comune, sommato al limite di 300 metri di distanza a cui avrebbe dovuto attenersi la ditta di disinfestazione, avrebbero di fatto inibito l'area di intervento. Per quanto riguarda invece Tolmezzo, l'amministrazione comunale intende approfondire meglio le modalità organizzative e tecniche di esecuzione prima di una sua possibile riprogrammazione. E' una notizia dalla Polizia di Pordenone. Negli ultimi mesi stanno vertiginosamente aumentando i casi di ricatto sessuale a danno di adolescenti attraverso i social network. Sono già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute dalla Polizia Postale. Si tratta di minori per lo più tra i 15 e i 17 anni e anche più piccoli. Tutto inizia con qualche chat, con profili social di ragazze e ragazzi gentili e avvenenti, apprezzamenti e like per le foto pubblicate. Si passa poi alle video chat e le richieste si fanno man mano più spinte. Nei giorni seguenti il martellamento online include la richiesta di somme di denaro, anche esigue con la minaccia che in caso di mancato pagamento il materiale sessuale verrà diffuso tra tutti i contatti, gli amici e i parenti. Le vittime intrappolate tra la vergogna e la paura che le immagini intime possano essere viste dai loro contatti tendono a tenersi tutto per sé e a non confidarsi con nessuno, in particolare con i genitori. Per questo motivo il fenomeno è sottostimato perché la denuncia impone ai ragazzi un disvellamento ai genitori che a volte appare più doloroso delle minacce dell'estorsione. E' sempre una notizia dalla Questura. Nelle ultime giornate dell'ultimo fine settimana sono stati effettuati dei servizi straordinari di controllo del territorio della provincia di Pordenone con l'impiego di equipaggi del reparto prevenzione Crimine Veneto di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura. Sono stati elevati due ordini di allontanamento nei confronti di due cittadini pakistani sorpresi a Pordenone in piazza Costantini che sono stati sanzionati per ubriachezza. Mentre l'ufficio misure di prevenzione della divisione Polizia Anticrimine ha notificato il provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Sambito al tagliamento per un anno nei confronti di un 42enne cittadino italiano. Ed è un consiglio comunale particolarmente delicato quello che si sta celebrando questa sera a Portogruaro dopo le dimissioni presentate dal sindaco Florio Favero. All'ordine del giorno è infatti scritta la discussione sulla situazione politica e amministrativa che si è aperta nella città dell'Emene e sulle prospettive che si apriranno se il primo cittadino non troverà le condizioni politiche per ritirare le sue dimissioni. Ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni. Gli alunni della scuola Gasparo Narvesa di Pordenone frequenteranno l'intero anno scolastico 22-23 nel nuovo prefabricato in via Peruzza a Torre di Pordenone. Lo stabile si trova nell'area adiacente alla palestra dell'Istituto Flora. E per finire, martedì 30 agosto alle 21 in piazza Risorgimento a Pordenone, Marco Anzovino presenterà il suo ultimo romanzo alla fine dei Baci, edizione di Biblioteca dell'Immagine in cui si racconta la storia di Giada e Luca, due adolescenti che suonano nella stessa band i da capo e che attraverso l'esperienza della musica vivono anche quella dell'amore. I due giovani condividono con i loro amici una sala prove in un garage, i sogni di libertà, le paure, l'emozione del palco, i segreti che solo a 17 anni si possono avere. Un romanzo che racconta l'irrefrenabile vitilità e l'immensa fragilità a cui si espongono e che è accompagnato da un QR code che spalanca a 17 brani del passato e del presente di Marco Anzovino. La presentazione del libro sarà accompagnata dalla musica di Cesare Coletti, alla chitarra classica e dalla voce di Veronica Bitto. E con questa ultima notizia si chiude qui il nostro telemedia donale. Grazie della vostra attenzione. Buona serata a tutti.